Grazie a Bette per le sue parole. Io parlo poco, quindi stasera è una delle pochissime volte in cui non dovrete parlare. Io mi ricordo un famoso slogan del 1968 che diceva la fantasia al potere. Ecco noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione che è molto peggiore di quella che forse voi pensate. Però oltre alla fantasia e alla creatività abbiamo bisogno di due cose in più. Una è la trasparenza e insieme alla trasparenza l'onestà e insieme all'onestà la competenza. Con la trasparenza, la competenza e l'onestà cambieremo l'Italia. Senza questa non cambieremo nulla. Grazie. 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 Grazie.